Siamo con il sindaco di Pietramonte Corvino, Raimondo Giallella, che parteciperà al bando Periferia in Centro. Noi non parteciperemo, noi sicuramente se ci verrà chiesto di ospitare degli eventi li ospiteremo, ma come me anche altri comuni dei Monti Dauni ospiteranno questa bellissima iniziativa che ha voluto fortemente il presidente Peppino D'Urso insieme a tutto il teatro pubblico pugliese. Noi come Pietramonte Corvino abbiamo aderito al teatro pubblico pugliese perché crediamo che uno dei motori che può far sviluppare i Monti Dauni e il territorio anche non proprio centrale, quello periferico, è la cultura e sono anche gli eventi teatrali.